In questo secondo programma vogliamo realizzare una somma tra due numeri in linguaggio C, però questa volta rispetto al programma che abbiamo visto in precedenza, questi valori da sommare vengono immessi dall'utente in input, cioè il programma attende che l'utente dia i valori in input, dopodiché effettuerà la somma di questi due valori. Allora, cominciamo subito con la scrittura del nostro programma. Quindi iniziamo con un commento, quindi ad esempio somma di due numeri interi da input, questo ad esempio potrebbe essere il titolo del programma, iniziamo ad includere nel nostro programma la libreria standard del C, in particolare questo file qui che rappresenta il file di intestazione che contiene tutte le definizioni delle funzioni di input-output che andremo ad impiegare all'interno del programma. La funzione main che deve essere sempre onnipresente in tutti i nostri programmi, dopodiché iniziamo a scrivere il programma nel corpo della funzione main. Allora ci servono anzitutto due locazioni di memoria dove andare ad inserire questi valori che vengono dall'input. Questi due numeri interi chiamiamo x ed y. filon. Sono due locazioni di memoria che, così riportati nel codice, dal momento in cui io non ho effettuato una inizializzazione della variabile, nel senso che ho scritto semplicemente il tipo ed il nome, all'interno di questa variabile ci potrebbe essere qualsiasi cosa, perché in questo modo io semplicemente ho detto al programma, alla macchina, vai a mettermi da parte questa locazione di memoria. Però non sovrascrivere il contenuto che c'è già in memoria. Se volessi sovrascrivere il contenuto dovrei semplicemente inizializzare la variabile con un valore iniziale. Ma, dal momento in cui poi queste variabili verranno sovrascritte dalle istruzioni successive, mettere lo 0 o non metterlo non cambia nulla. A questo punto dobbiamo introdurre una nuova funzione della libreria del C, e cioè la funzione che serve a prelevare i dati dallo standard input, cioè dalla tastiera, se vogliamo più semplicemente. Questa funzione si chiama la funzione scanf. Ecco qui, scansione, di nuovo, formattata, nel senso che il tipo di input è un input che viene formattato a priori. Ebbene, come vedete qui, il compilatore qui ci suggerisce, l'editor di testo ci suggerisce che il primo parametro della funzione scanf è una costante stringa di formato. Quindi è una sequenza di caratteri, racchiusa tra doppi apici, che in qualche modo definisce il tipo di input che ci attendiamo. Allora, se mettiamo %d, questa stringa di formato è semplicemente un intero, cioè la funzione si attende un intero, un numero. Dopodiché, ovviamente, qualunque cosa viene scritta successivamente da questo numero verrà scartata via. Il secondo parametro è una lista di, vedete i tre puntini qui, l'ips si chiama in gergo, una lista di parametri che devono essere in rapporto 1 a 1 con la stringa di formato. Nel senso che se io qui metto un intero, allora qui devo mettere l'indirizzo di una variabile dove andare a memorizzare il valore in input. Ad esempio, in questo modo io sto indicando alla scanf, alla funzione, vai a mettere il contenuto dell'intero che prendi dalla tastiera, dall'input, in questa variabile x. Questo operatore di e-commercial, di ampersand, semplicemente estrae l'indirizzo della variabile x. Dopodiché possiamo, anzitutto, mandare in output un prompt, cioè un qualcosa di un'interazione con l'utente, dire semplicemente dammi il primo valore. In questo modo l'utente si attende, la macchina attende l'input dell'utente, lo memorizza all'interno della variabile, dopodiché mandiamo un'altra stringa su video, dammi il secondo valore e quindi l'utente di nuovo immetterà il secondo valore. Verrà memorizzato il secondo valore all'interno della variabile y, dopodiché possiamo direttamente mandare la somma. Qui possiamo direttamente sommare i valori e restituire il controllo. Proviamo a compilare il programma, proviamo a compilare il programma che abbiamo già salvato all'interno di questa cartella, lo vedete qui, somma2.c, quindi gcc, somma2.c o, per dargli un nome, per rinominarlo, invio. Vediamo l'errore che riporta il programma. Ecco, ovviamente abbiamo scritto in maniera non corretta la parola chiave, quindi ovviamente il compilatore ci ha avvisati. Facciamo la compilazione. Ecco, a questo punto il programma è stato compilato. Se io vado a vedere cosa c'è nella cartella dove avevo memorizzato il codice, il sorgente del programma, notate che c'è l'eseguibile del programma, cioè la versione compilata, cioè interpretabile dal processore. Sì. Ora proviamo ad eseguire il programma. Semplicemente digitiamo il nome del programma e diamo invio. Ecco qui che il prompt, cioè la stringa su video, attende l'immissione da parte dell'utente di un numero, ad esempio 34, dando invio con il pulsante sulla tastiera. Quello che accade è semplicemente che siamo a questo punto, nel senso che è stato computato questo set di istruzioni, adesso il controllo è fermo sulla scanf, cioè questo cursore, quel che lampeggia qui su video, è praticamente la funzione scanf che è in attesa dell'input da parte dell'utente, ad esempio proviamo a mettere il valore 4, dando invio, la scanf va a prelevare il dato dall'input, ve lo mette nella variabile epsilon, dopodiché questa funzione, questa chiamata funzione, stamperà il risultato della somma. E qui ovviamente ci siamo dimenticati, ci siamo dimenticati di mettere il formato dell'output, vedete? Il codice qui è errato, nel senso che io avevo semplicemente tralasciato il formato di uscita, la funzione printf semplicemente mi ha stampato questa stringa qui e ovviamente ha tralasciato questo valore che si trova qui, questo parametro, perché non c'è il formato, aggiungiamo il formato, salviamo, ricompiliamo il programma, eseguiamo di nuovo il programma, di nuovo proviamo ad immettere i due valori e vedete, vedete adesso che la la printf ha fatto corrispondere il risultato di questa espressione al formato in uscita, quindi questo formato in uscita ovviamente io posso metterlo in qualunque posto qui nella stringa, quello che fa la printf è sostituire poi al posto di questo %d il risultato di questo parametro, che può essere un'espressione più complessa, una chiamata funzione o ovviamente un qualunque valore che si può associare alla stringa di formato. Ebbene, io direi che con questo video possiamo chiudere la registrazione, molto semplice questo video introduttivo, ci vediamo nel prossimo video.